Buonasera, buonasera, mi chiamo Courtney Quentens e sono la Programs Manager qui alla BSR. Prima di tutto siamo molto felici di avervi qui con noi questa sera, sia di persona sia online. Ci teniamo molto a questo evento e siamo molto orgogliosi di celebrare il Black History Month insieme a voi e con questa conversazione così importante. E ci fa molto piacere dare il bentornato a casa a Ardip Dinsa, il quale è stato borsista da noi l'anno scorso e siamo anche contentissimi di poter dialogare per la prima volta in questa sede con Maria Pia Guermandi. E adesso vi lascio nelle mani della mia collega Silvia Calderoni, la nostra Communications Officer e anche la nostra moderatrice per stasera. Vi auguro una buona discussione. Grazie. Grazie Courtney, buonasera a tutte e a tutti. Sono Silvia, appunto Communications Officer alla British School at Rome ed è un onore poter dialogare questa sera con Ardip Dinsa e Maria Pia Guermandi in occasione del Black History Month che è il mese dedicato appunto alla storia delle persone nere. Celebrato nel Regno Unito dal 1987 durante ottobre, questo mese riconosce i contributi delle persone nere alla storia e in quanto parte della British School at Rome, un'istituzione britannica con un'eredità complessa e stratificata e l'obiettivo è proprio quello di adottare un approccio decoloniale al nostro archivio e al nostro programma e per questo riteniamo essenziale riflettere questa sera sul patrimonio come strumento di colonialismo e di soft power. Per questa ragione crediamo che un altro patrimonio è possibile, titolo che abbiamo dato a questo incontro come appunto abbiamo preso da il libro di Mara Pia Guermandi Decolonizzare il patrimonio e siamo appunto molto contenti di essere qui. Vorrei ora introdurre Ardip e Maria Pia. Ardip Dinsa è ricercatore di dottorato al King's College di Londra, specializzato nell'arte classica, nella sua ricezione appena concluso una tesi di dottorato che esplora il rapporto tra etnonazionalismo e identità imperiale nel Gran Tour britannico del XVIII secolo e nel 2022 ha partecipato a un Leverhom Study Abroad Studentship qui alla British School at Rome approfondendo le connessioni tra l'antichità classica e l'impero britannico. Ardip è anche rappresentante post laurea della British Society for 18th Century Studies e ha recentemente collaborato con il Big Shop Sale Institute per creare un tour a piedi sull'architettura imperiale in via d'estinzione nella città di Londra. Oltre a un tour pubblico sulla razza e sul colore nell'arte europea con la National Gallery. Maria Pia Guermandi è archeologa classica, è consulente scientifica per oggetti europei sulle politiche culturali, è membro del Consiglio di Amministrazione della Pinacoteca Nazionale di Bologna e consulente per Raicultura. Dal 2020 è codirettrice della collana Antipatrimonio per Castelvecchi e membro dell'Associazione di Studi Critici sul Patrimonio con oltre 100 pubblicazioni all'attivo. Le sue ricerche si concentrano sulla decolonialità applicata al patrimonio culturale, sul rinnovamento della museologia in Italia e in Europa, docente presso l'Università Cattolica di Milano, tiene seminari e workshop in università, musei e istituti di cultura. Allora, basta, va bene. E vorrei solo ringraziare la nostra archivista, che non è qui questa sera, ma che ringrazio molto, Alessandra Giovenco, per il supporto per il materiale d'archivio della BSAR che mostriamo questa sera per la prima volta. E vorrei iniziare questo confronto a partire proprio da una citazione del libro, Decolonizzare il patrimonio che abbiamo inserito, appunto, la competizione fra potenze europee sul piano coloniale estrettamente connessa in quegli stessi decenni alla costituzione delle identità nazionali vedrà la ricerca archeologica quale arena privilegiata nella conquista dei resti della civiltà greco-romana, considerati nella visione politica e intellettuale del tempo quale radice comune della civiltà occidentale. Quindi ci interessava un po' approfondire appunto questo concetto, diciamo, dell'archeologia come un'arena privilegiata e in che modo può essere considerata appunto insieme ad altre discipline come forma di soft power. Grazie Silvia e prima di tutto anch'io sono molto contenta di essere qui a mia volta, in questo posto molto importante anche per le cose che sto studiando per molti versi e di ritrovarmi in questa occasione per il Black History Month che, insomma, in Italia è ancora abbastanza una novità e quindi bravissimi per supportare questa iniziativa. Allora, l'archeologia. L'archeologia è come strumento coloniale, come scritto nel libro, perché? Perché in realtà, così come è stata dall'inizio dell'Ottocento, si può dire, strumento del nation building e quindi al servizio della costituzione di quelle che Anderson chiamava le comunità immaginate, ovvero sia le comunità nazionali che dovevano avere di radice comune la stessa lingua, lo stesso territorio e uno stesso passato. Nella costruzione della storia del passato l'archeologia ha un grande ruolo, comincia ad avere un peso fondamentale che poi sarà lo stesso in chiave colonialista. Sappiamo perfettamente che il colonialismo è la espansione del nazionalismo oltre i confini territoriali della nazione stessa e la seconda fase del colonialismo moderno, cioè quella che parte sostanzialmente dall'Ottocento, come pretesto ideologico, mentre nel XVI secolo c'era il portiamo la salvezza e quindi il coteo religioso, portiamo la salvezza alle popolazioni selvagge, adesso è diventato, portiamo la civiltà. Quale civiltà? Allora dall'illuminesmo in poi le nazioni europee si autocertificano come le naturali eredi delle grandi civiltà, le great civilizations che sono poi l'Egitto, e già lì era cominciata la corsa dalla spedizione napoleonica in poi, e la civiltà greco-romana, perché era funzionale alla costruzione di una storia, e come ci insegnate voi, e come ci ha insegnato Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro, e l'archeologia serve a costruire il passato, un passato ancora più potente perché è costruito sull'immaginario di questi monumenti straordinari che sono quelli dell'archeologia classica, che sarà recuperata in questa sorta di corsa all'oro che caratterizza dal primi decenni dell'Ottocento le nazioni europee verso quello che è definito ancora una fase di colonialismo informale, perché si attua soprattutto nei territori dell'impero ottomano, che non sono ancora colonie, quindi con un controllo politico diretto delle nazioni europee, ma dove però dal punto di vista della ricerca archeologica e del controllo del sapere archeologico le nazioni europee esercitano questo potere che continua inalterato nel tempo e suggestione alle stesse popolazioni locali, tant'è vero che gli stessi dignitari e studiosi dell'impero ottomano, quando a un certo punto, diciamo dal 1860 in poi, cominceranno a contrapporsi alle ricerche dei paesi europei, a cercare di contrastare anche queste, questo furto inarrestabile, che cosa succede? Che in realtà, ad esempio, cominceranno a fare scavi sull'antichità classica, il famoso Osman Amdi Bey, che è un po' il fondatore dell'archeologia per quanto riguarda l'impero ottomano, il fondatore di quello che sarà l'imperial museo, il museo imperiale di Istanbul, dove va a scavare? Va a Sidone a scavare una necropoli ellenistica, anche il passato da salvare è diventato quello. In prima fase i monumenti e i materiali di epoca islamica sono considerati non così importanti di serie B anche dalle popolazioni dell'impero ottomano, tant'è che saranno poi almeno per un paio di decenni messi all'attere del museo imperiale. Ecco, da questo punto di vista questo potere di creazione di un passato e dei simboli legati al passato che poi funziona sia nei paesi del colonialismo informale che tanto più ovviamente all'interno dei paesi europei perché come ben sappiamo con i materiali dei grandi scavi in Anatolia, in Grecia vengono costruiti, costituiti i grandi musei ottocenteschi consolidati anche se c'erano, erano stati consolidati da prima, i grandi musei europei. Quando Karouman riporta a Berlino i resti dell'altare di Pergamo viene accolto come un eroe, come un trionfatore, come un generale trionfatore e nessuno ovviamente si pone il problema che insomma erano tutti i materiali saccheggiati ma perché è comunque una dimostrazione di presenza e come tale serve a consolidare quello che poi il nazionalismo sotto altre vesti come sarà il colonialismo. Ecco, nella costruzione di questa corsa all'oro archeologico servono anche delle infrastrutture logistiche e queste saranno le scuole archeologiche qua ci troviamo nelle rede di questo passato e le scuole archeologiche che sono però questo, uno strumento che si rivela così efficace c'è come una sorta di territorio extraterritoriale insomma di luogo extraterritoriale nei vari paesi che dura fino ad oggi che ha una continuità fino al contemporaneo e poi magari vedremo continuità e discontinuità insomma. Grazie Maria Pia e anche Silvia Penso che per iniziare a capire la relazione fra imperialismo europeo e civiltà è necessario definire patrimonio il concetto occidentale di patrimonio è quello di possesso in inglese la parola inheritance e heritage indicano un trasferimento capitalista tra di terra, di denaro e anche potere culturale mentre in italiano la parola patrimonio evoca idee patriacali di proprietà di persone e di oggetti. Nella mia ricerca sull'impero britannico nel XVIII secolo vediamo la storia classica appropriata per servire le ideologie imperiali britanniche non quelle europee in generale e vediamo la stessa cosa in Francia entrambi i paesi si sono appropriati della stessa lingua classica ma è stata utilizzata per scopi nazionali non continentali. L'Inghilterra per esempio ha utilizzato i miti di Romulo, Brutto di Troia ed Enea per capire meglio la colonizzazione dell'America Minerva ed Hermes sono diventati dei protettori del commercio e dell'espansione. I candidati all'Indian Civil Service hanno dovuto rispondere a domande come cosa può imparare la Gran Britannia dalla caduta dell'impero romano. Quando furono scoperte le isole del Pacifico furono paragonate all'Arcadia perché la popolazione era aperta al commercio con gli europei mentre alcune popolazioni caraibiche furono descritte come ciclopi selvaggi perché non volevano commerciale. Ma ci sono anche momenti in cui le comunità intellettuali di tutta l'Europea hanno lavorato insieme. Nella prima metà del XVIII secolo, quando la presenza europea si stava espandendo in India troviamo un nuovo apprezzamento di Alessandro Magno nelle storie inglese e francesi. Prima era vista come un tirano ma ora divenne un portatore di civiltà in Asia l'antenato imperiale degli europei moderni. In generale l'archeologia e la storia nazionale hanno un ruolo importante nella costruzione della nazione perché forniscono una memoria di un passato comune e consentono la comunicazione fra gruppi diversi. L'idea di nazione è radicata in lotte ereoche e in un grande destino e le comunità nazionali devono essere inventate e l'archeologia fornisce quel senso di storia. Sfortunatamente il patrimonio culturale è sempre usato per definire l'identità occidentale perché in primo luogo l'idea di Grecia e di Roma è stata parte della storia della white race o razza bianca giusto possiamo dire dalla fine del diciottessimo secolo e in secondo luogo l'occidente è stato in grado di controllare il racconto della civiltà umana attraverso le sue istituzioni culturali come i musei, come gli archivi Grazie Sì, oggi appunto stavamo dibattendo cioè dibattendo stavamo insomma capendo come tradurre race in italiano perché non è così scontato e quindi come lo traduci metti un asterisco e spieghi che in italiano ha un significato un po' particolare però lo utilizziamo insomma in questo senso e la seconda domanda che appunto volevo farvi era proprio su come è stato come viene utilizzato diciamo il patrimonio in maniera coloniale proprio per costruire un'idea di europeicità quindi europeness nel senso proprio di diciamo qualcosa che possiamo anche di cui possiamo avere esperienza anche adesso si è parlato molto del ruolo dell'unesco in questo senso e quindi se potevate dare un approfondimento su questo Sì, beh, l'uso che del patrimonio ha fatto è evidente che sia io che Ardip penso ovviamente interpretiamo patrimonio culturale e archeologia stessa non tanto come discipline scientifiche ma come pratiche sociali pratiche attraverso le quali si esprimono le volontà, le ambizioni, gli auspici l'idologia anche contemporanea di una popolazione e quindi come pratiche politiche nel pieno senso del termine e così sono andoperate anche per costruire questa strana cosa questo irco cervo che è l'Europa che nasce in una linea di continuità purtroppo per certi versi rispetto al nation building cioè anche qui il patrimonio viene usato in senso esclusivo ed escludente quando ad esempio nel 2011 ci si inventa perché è già un momento di crisi del progetto europeo adesso è ancora peggio ma insomma ci si inventa lo European Heritage Label cioè il marchio che scimmiottava per certi versi il World Heritage List in versione europea cioè c'è il problema di creare proprio c'è un problema di coesione interna fra i vari paesi che non è mai dettagliata e uno degli strumenti a cui si pensa è appunto il patrimonio culturale creiamo il patrimonio culturale europeo quindi possa essere sovranazionale che unisca queste varie elezioni all'interno conosco bene la vicenda perché ho partecipato da parecchi progetti europei l'obiettivo era proprio quello di trovare questa roba fenice del patrimonio culturale e uno degli strumenti è la creazione di un elenco di una designazione di siti, luoghi che identifichino le caratteristiche della europeicità del patrimonio e qui c'è un po' di tutto l'acropoli di Atene perché è il simbolo della democrazia un sito croato legato alla fase Neandertal la casa di De Gasperi, di Schumann i luoghi, luoghi anche in negativo come quelli legati alla Shoah Sant'Anna di Stazema alle stragi nazifasciste o al carceri staliniste nessuno collegato a luoghi di religioni diverse da quella cristiana o ebraica nessuno legato al colonialismo al punto che quando nel 2016 direi viene nominato me lo sono riportata perché è incredibile questo sito il promontorio di Sagres che è un porto il punto più a ovest dell'Europa nell'argarve portoghese da cui chiaramente partivano le navi portoghesi per il commercio coloniale il dominio coloniale e anche la trattata degli scavi per certi versi la spiegazione del perché è stato nominato questo sito come identificativo della storia europea è la seguente scusatemi l'inglese a key location of the age of discoveries that marked the expansion of European culture science exploration and commerce both towards the Atlantic and the Mediterranean setting European civilization on its path to the global projection that came to define the modern world quindi come dire è il posto dove il massimo della civiltà europea trova il suo sbocco in dimensione mondiale nessun accenno alla fase coloniale e da ultimo ad esempio è stato nominato anche questo museo delle migrazioni aperto a Bruxelles nel quartiere di Molenbeck che è un quartiere fortemente multietnico ma che è dedicato alle migrazioni dalla seconda guerra mondiale in poi come un fenomeno separato dal dal colonialismo da un punto di vista storico cioè c'è proprio una completa rimozione a livello europeo c'è stata per moltissimo tempo una completa rimozione del del fenomeno coloniale che è in realtà consustanziale anche al progetto europeo come è stato anche dimostrato da alcuni studiosi postcoloniali che ad esempio hanno certificato con le loro ricerche d'archivio che la CECA la comunità del carbone e dell'acciaio che è il primo nucleo della costruzione dell'Unione Europea nel 57 aveva posto come condizio sine qua non come condizione essenziale perché il progetto quel progetto avesse successo lo sfruttamento delle colonie europee e quando d'altro canto i paesi fondatori dell'Europa nella seconda metà degli anni 50 cominciano a parlare del progetto europeo sono tutti ancora complesso l'Italia che aveva ancora l'amministrazione della Somalia sono tutti paesi coloniali e questo ruolo però viene oscurato ed è oscurato ahimè in gran parte ancora adesso grazie Silvia per aver messo le mie stampe sullo schermo fin dall'antichità c'è stato un concetto di noi contro loro che parliamo sul Grecia e Persia o Roma e Carteggine ma queste non erano necessariamente identità razionali razziali scusami si sostiene generalmente che il concetto moderno di europeità cresciuto dalla fine del quindicesimo secolo chiamato The Age of Discovery in inglese che ha coinciso con un rinnovato apprezzamento per l'arte classica qualche anno fa ero molto interessato alla storia di Enea e alle contraddizioni tra le sue origini asiatiche e il suo stato di antenato di Roma ed è un esempio che mostra come l'eredità ha informato le identità politiche da un lato vediamo nella letteratura italiana nel scusa del quindicesimo sedicesimo secolo è un tentativo di cristianizzare Whitewash Enea attraverso il suo viaggio da Troia a Lazio o a Latium in latino dall'altro lato vediamo gli ottomani che affermano di essere i veri discendenti dei troiani e islamizzano Enea attraverso l'archeologia quindi l'eredità è sempre stata un metodo per definire se stessi rispetto da un altro penso che sarebbe utile discutere anche della mia arte sullo schermo perché ci sono delle immagini qua riguardano la bianchezza europea o european whiteness da un lato interrogo la veridicità delle sculture classiche britani bianche scusa usando colori non realistici entrambe sono molto sbagliate nella loro veridicità ma una è vista come normale e una vista come anormale perché il bianco è considerato normale d'altro conto considero molto la bianchezza come un vuoto possiamo d'altro conto considero molto la bianchezza come un vuoto quando i collezionisti britannici collocarono marmi romani nelle loro case costruite usando la ricchezza coloniale ricontestualizzarono le sculture per parlare del loro potere globale invocando gli imperi di Roma e Grecia in questo senso le sculture servono come specchi bianchi o white mirrors perché non sono definite dalla loro antichità ma dal loro soggiagamento alla proprietà britannica grazie sì le immagini che vedete sono state diciamo mescolate sono state fornite sia da Maria Pia che appunto dall'archivio della BSR che da Ardip che oltre a essere ricercatore è anche artista quindi grazie la prossima domanda riguarda l'Italia nello specifico e come viene descritta appunto nel libro ma in generale mi interessava molto questa riflessione sull'Italia che è allo stesso tempo paese colonizzato e colonizzatore e volevo dire due cose anche su questa immagine che appunto sono state prese dall'archivio della BSR che sono datate appunto lo stesso anno nel dopoguerra durante il protettorato britannico si parla di scavi in Libia che sono stati diciamo lasciati un po' non insomma taken care of adesso anche io faccio insomma curati esatto e quindi ci sono due diciamo articoli diversi uno di stampa britannica uno di stampa italiana che descrivono con toni molto diversi la loro azione protettiva nei confronti di questi scavi quindi è interessante appunto vedere i toni diversi comunque di supremazia rispetto a questi scavi quindi se potevamo insomma riflettere su questo insieme ho fatto io o ho fatto sempre io no 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 tranquillo poi me tocca purtroppo sono argomenti dolorosi nel senso che non ci facciamo una gran figura comunque sì paese colonizzato colonizzatore nel libro parlo proprio dall'ottocento perché appunto parlavo prima di questa di questo possesso dell'antichità classica da parte dei e dei suoi resti materiali soprattutto perché c'è bisogno di immagini di simboli di icone con cui sostanziare questa costruzione a posteriori del del passato e i resti archeologici funzionano benissimo tanto più quelli monumentali romani e greci poi Ardip che è uno studioso del Grand Tour ne parlerà molto meglio di quello che possa fare io ma diciamo in una continuità rispetto al Grand Tour l'Italia almeno fino all'unità quindi stiamo parlando 61-70 perché poi l'acquisizione della capitale nel 1870 quindi molto avanti nel secolo è come la Grecia cioè è terra di conquista del per quanto riguarda il patrimonio archeologico e non tanto e non solo dal punto di vista degli scavi non è tanto che vengano non so come in Grecia i grandi scavi a Delfia ad Olimpia delle dei paesi stranieri ma in più c'era era un po' il dorado l'Italia perché c'erano queste grandiose collezioni archeologiche delle grandi famiglie aristocratiche o anche molto recenti penso alla collezione campana e poi vengono dismesse e lì ci costruiscono parte del Louvre dell'Ermitage cioè sono materiali ricchissimi e quindi da questo punto di vista è un paese colonizzato poi diventiamo uno Stato nazionale ci dotiamo bene o male di un di qualche legge protezionistica ma soprattutto vogliamo entrare a far parte del consesso delle nazioni che contano e uno dei meccanismi è diventare a nostra volta costruttori del passato archeologi fuori d'Italia e colonizzatori quando negli anni negli anni 90 partirà la prima dell'800 stava parlando la prima missione archeologica italiana in Gre a Creta a Gortina Federico Albert per l'archeologo che la dirige per farsi finanziare questa questa missione presso il ministero le altre cariche dello Stato sottolinea queste questioni di orgoglio nazionale voi dovete finanziare questa spedizione in chiave antifrancese antiinglese altrimenti che figura ci facciamo noi italiani noi dobbiamo avere a nostra volta lo scavo archeologico controllare i resti del passato così sarà lo stesso anche in Libia addirittura la missione sempre di Federico Albert in Cirenaica archeologica precederà di qualche mese la prima guerra d'invasione coloniale italiana in Libia che è quella del 1911 1912 siamo ancora in una fase l'Italia geolittiana insomma però pienamente colonizzatori così succederà al tavolo della conferenza di Berlino quando l'Italia premerà per sedersi accanto alle altre nazioni come acquisizione di un livello di pari dignità avere le colonie significa anche ambire a far parte del consesso delle nazioni che contano e ahimè questo meccanismo dura anche dopo la seconda guerra mondiale come abbiamo visto dalle date dei documenti che ha trovato e davvero grazie anche all'archivista perché ci sono alcune chicche notevoli poi non so se faremo modo di commentare anche la lettera di Bianchi Bandinelli c'è una continuità purtroppo perfetta dal punto di vista della ricerca archeologica ma anche dell'atteggiamento verso le colonie l'abbiamo già detto prima no una continuità che peraltro viene supportata anche dagli altri paesi dagli stessi inglesi che quando prendono in carico i territori di Tripolitania Cirenaica dal 42 43 dopo aver sconfitto le truppe dell'asse tutto sommato preferiscono richiamare l'ex sovrintendente archeologo italiano quindi di provata fede fascista perché forse era meglio che arrivasse lui che non magari un russo o qualcosa siamo già in piena guerra fredda non dichiarata e quindi per alcuni anni ritorna dopo la fine della seconda guerra mondiale lo stesso personale alle posizioni di vertice per quanto riguarda la cura dei degli scavi archeologici in Libia lo stesso personale fascista che c'era stato fino a pochi mesi prima nonostante il giudizio dal punto di vista scientifico degli archeologi inglesi che erano poi militari ma di fatto archeologi fosse piuttosto negativo perché ed era vero si trattava di scavi fortemente propagandistici che avevano mirato a costruire il grande monumento anche procedendo a restauri affrettati e quant'altro però in quel momento erano funzionali arriva a dire il fatto che queste discipline il patrimonio dell'archeologia sono strumenti contemporanei e politici sì è un'idea molto strano essere sia colonizzatori che colonizzati e questa relazione si manifesta in molti modi naturalmente c'è il lato storico in cui parti d'Italia erano sotto il dominio spagnolo e c'è anche un lato epistemologico riguardo al finanziamento dell'archeologia come ha discusso Maria Pia nella mia esperienza personale come ricercatore nel campo degli studi di classici in inglese diciamo classics ho visto la sfortunata primitivizzazione di studiosi italiani e anche greci da parte di studiosi anglofoni c'è una supposizione che il passato dell'Italia e Grecia faccia parte di una storia occidentale universale e quindi appartenga a tutti questo appare anche linguisticamente non affermo che il mio italiano è perfetto ma mi assicuro che quando faccio ricerche sull'imperialismo culturale nell'Italia nel diciottesimo secolo incorporo il più possibili fonti italiani un gran numero di studiosi classici nell'anglosfera non consulta fonti italiane o fonti italiane o greche contemporanee c'è una gerarchia negli studi classici che privilegia studiosi inglesi francesi e tedeschi prevedibilmente questi paesi abbiamo avuto imperi che si sono appropriati della storia classica nella loro ricerca del dominio globale ma la storia britannica anglosassone non è considerata parte della storia italiana neanche la germania della riforma è considerata parte della storia italiana la francia medievale non è considerata parte della storia italiana questa storia occidentale universale non è in realtà universale è un dialogo unidirezionale in cui l'Europa settentrionale e occidentale possono rivendicare la prossimità al passato alle spese dell'Italia e della Grecia grazie con questa bellissima immagine apriamo il prossimo tema che è impossibile diciamo non citare quando si parla appunto di patrimonio di colonialismo che è quello della repatriation quindi della restituzione di beni culturali che appartengono ad altri paesi ad altre culture a quei paesi a cui sono stati sottratti in questo caso appunto l'immagine che è stata fornita da Maria Pia riguarda il ritorno della venere di Cirene in Libia nel 2008 quando vabbè insomma sappiamo più o meno che cosa è successo e in ogni caso la domanda è appunto come insomma cosa ne pensate diciamo sia di questa vicenda ma poi in generale del concetto di restituzione si parla poi di dissonant heritage quindi beni culturali dissonanti che comunque la parola in italiano è molto evocativa secondo me e le argomentazioni che vedono di solito dei rifiuti da parte dell'istituzione europea di restituire il patrimonio sono appunto varie c'è chi afferma che in questo modo si svuoterebbero i musei chi sostiene che verrebbe a meno la biografia centrale dell'oggetto ovvero quella biografia dell'oggetto che racchiude anche la storia appunto coloniale e chi parla appunto di valori universali dell'oggetto e quindi insomma questo magari passiamo da Nordip giustamente grazie Silvia il rimpatrio è un argomento difficile da discutere perché è molto difficile da definire a livello più ampio a volte non conosciamo la provenienza di un oggetto a volte i confini moderni delle nazioni causano dibattiti sulle origini dell'oggetto e a volte il viaggio di un oggetto è molto complesso quindi non possiamo identificare un proprietario originale nel libro di Maria Pia ci sono sezioni fantastiche sul ruolo eurocentrico che l'UNESCO ha svolto nella conservazione e nel rimpatrio di oggetti non europei ma io non sono un esperto dal punto di vista legale ma sono a favore del rimpatrio degli oggetti ma voglio usare questo tempo per criticare il rifuito del rimpatrio se il rimpatrio viene riflettato a favore della decolonizzazione del museo dobbiamo anche parlare della natura problematica di questo risultato molti studiosi hanno messo in dubbio se un'istituzione nata dal discorso imperiale può essere decolonizzata il museo moderno per la sua stessa origine è un sito di potere coloniale e i tentativi di colonizzarlo normalmente si concentrano sulla senza di colpa di bianco in inglese diciamo white guilt oppure white fragility o su nozioni eurocentriche di universitalità come esempio uno uso la testa dell'isola di Pasqua al British Museum the Easter Island Head poiché è considerato ogni anno una delegazione dell'isola viene a chiedere la restituzione della statua perché è considerata un antenato vivente mettono una ciotola di sabbia davanti alla statua in modo che può toccare la sua terra indigena ma il British Museum ha raccolto la sabbia e la mette dietro un vetro aggiungendo un altro elemento all'esposizione quindi i non europei hanno ragione a essere sospettosi di qualsiasi musei che si rifliti di riempatriare i propri oggetti i musei come gli accademici non sono agenti di colonizzazione e dobbiamo capirli attraverso il concetto di disimparare l'imperialismo in inglese it's unlearning imperialism Azule per esempio scrive che disimparare significa riconoscere che ciò che è stato rubato dal movimento imperiale non può essere ridistribuito attraverso beneficenza o aiuti umanitari significa rifiutare il museo come segno di progresso e la conservazione degli oggetti come un atto di cura ma se il rimpatrio dovesse avvenire le ex potenze coloniali non dovrebbero avere il vantaggio di essere visto come generose le ex popolazioni coloniali non dovrebbero dover dimostrare la loro gratitudine meraviglioso allora sì il discorso della repatriation ne abbiamo parlato anche ieri a questa iniziativa che c'era la società geografica sulla decolonizzazione dei musei e della geografia e lì di nuovo mi sono sentita ricitare questa storia della biografia degli oggetti allora innanzitutto l'opposizione alla ai meccanismi di restituzione di repatriation ha e questo già ne identifica è una spia della della cattiva coscienza europea ha cambiato giustificazione nel tempo quelle 10 15 20 volte siamo partiti da non vi restituiamo niente perché è tutto legale a noi lo proteggiamo meglio quindi lo teniamo per proteggerlo a siamo il museo universale quindi il patrimonio lo vedono più nei nostri grandi musei che non in quelle cose sperdute che dove lo volete mettere ha appunto la biografia degli oggetti restituire l'oggetto significa privarlo di una pagina di storia allora con per carità salvando il social life of things di appadurai che ha detto delle cose intelligentissime però io non ho mai capito a fine in fondo questa storia nel senso che o noi riteniamo che la presenza dell'oggetto coloniale nella vetrina nel museo europeo sia la fine della storia cioè la fine della biografia come la fine della storia di Fukuyama ma lì avevamo già dato ed era stato come dire fortemente smentito da quello che è successo o altrimenti è lo stesso principio della cancel culture e cancel culture non significa cancellare la storia ma aggiungere altre storie a una versione unilaterale della storia stessa e così il ritorno eventuale di questi oggetti nei ai loro paesi alle comunità di appartenenza è semplicemente una pagina aggiuntiva della biografia che non cancella necessariamente anzi io mi augurerei che nei nuovi musei fosse raccontata questa storia come è spesso successo di saccheggio e di furto cosa che invece non è fatta nel museo europeo lì c'è stata la vera negazione della storia stessa nei musei europei fino a tempi recentissimi fino a quando non sono stati costretti i musei etnografici a prendere atto che bisognava cambiare qualcosa la genesi coloniale degli oggetti era completamente oscurata anche quando furono riformati peraltro il Kebran Lee è suggestivo da questo punto di vista quindi questo è poi che ci siano grossissimi problemi che derivano però anche da anche lì dal passato coloniale cioè a chi restituire spesso le comunità le source communities le comunità eredi di quelle delle tradizioni culturali a cui partengono gli oggetti sono suddivisi fra paesi diversi questo è il portato della conferenza di Berlino quando abbiamo con la riga separato tutta l'Africa e questi ci sono adesso va molto di moda dire che è meglio non restituire questi oggetti perché spesso ne fanno un uso politico nazionalistico che è vero guarda quello che sta succedendo in Egitto nella stessa Nigeria nella Repubblica del Benin dove il ritorno di questi pochi oggetti ha dato adito anche a pulsioni nazionalistiche però da che pulpito cioè noi siamo gli esportatori del nazionalismo come dire quindi davvero non possiamo trincerarsi trincerarci dietro una giustificazione di questo tipo e poi ne parliamo ne parliamo ne parliamo ma in realtà questo processo presenta ancora grossissime difficoltà le primissime leggi sulla repatriation quella belga è di due anni fa questi accordi bilaterali della Germania sono pure degli ultimissimi anni la Francia aveva giurato e spergiurato che avrebbe fatto questa legge sulla repatriation del patrimonio di epoca coloniale limitata solo all'Africa quindi non c'entrava l'indocina eccetera e non è ancora uscita è uscita la legge per la restituzione dei materiali sottratti durante l'occupazione nazista ma sui resti umani ma non quella che deontologicamente insomma hanno una sensibilità diversa e quindi non per caso persino il British ha concesso il ritorno dei resti umani ma anche lì quando si è discusso in Senato nel Senato in Francia la legge appunto che doveva consentire la restituzione dei resti umani alle colonie che le ex colonie che ne facessero richiesta una delle prescrizioni fu che questi resti al di là del fatto che non dovevano essere precedenti al 1500 cioè un limite cronologico fu che l'uso che ne dovevano fare le comunità richiedenti fosse esclusivamente di religioso sacrale cioè dovevano riseppellire o dar loro una un esito funerario questo non perché credesse è detto esplicitamente affinché questi oggetti non diventassero fonte per colpevolizzare il passato coloniale francese cioè non diventassero una testimonianza di quello che era successo in precedenza l'elemento di neanche senso di colpa perché proprio di mettere le mani avanti c'è in questo blocco della restituzione in realtà un non detto economico politico molto forte per molto tempo e probabilmente ancora adesso le nazioni le ex potenze coloniali europee hanno il dubbio che le ex colonie si mettano a richiedere i danni economici del dominio coloniale e allora si tratterebbe di cifre spesso non non irrisorie e quindi la repatriation è stata bloccata anche su questo su questo piano piano pianamente politico economico ovviamente e però insomma prosegue veramente stentatamente per certi versi poi è comprensibile evidente che certi musei sarebbero quasi svuotati pensiamo all'Africa Museum non so non lo so comunque però in molti altri casi non è vero non è successo così e poi esiste un problema di riparazione del danno che è quello a cui probabilmente anzi sicuramente allude la Zulè in Potential History che va anche oltre e al di là della repatriation degli oggetti ma questo è un altro discorso allora da parte mia l'ultima domanda c'è un tema che unisce le vostre ricerche che è un po' diciamo in modo allargato quello del turismo comunque legato al Grand Tour di come venga di come può essere considerato una forma di neocolonialismo e quindi se potevate insomma viene descritto molto sia nel libro che nella ricerca di di Ardip proprio questa questa caratteristica contemporanea che però pare avere radici più lontane e cultural washing legato appunto a questo tema Per rispondere a questa domanda voglio parlare del concetto di anticonquista in inglese the anti-conquest che sostiene che gli europei affermano l'egemonia sui non europei attraverso atti innocenti come turismo come l'esplorazione l'archeologia invece che attraverso verso la guerra e la conquista Maria Pia usa un termine simile nel suo libro un assoggettamento culturale come specialista del Grand Tour discuterò di questo come abbiamo discorso oggi e come ha sostenuto Maria Pia l'Italia è uno caso strano nella storia dell'imperialismo come colonizzatrice che colonizzata ma nel Grand Tour troviamo molti esempi di turismo nel mezzogiorno che incorpora elementi di esplorazione coloniale a Napoli per esempio troviamo molto paragoni tra l'Italia e le isole del Pacifico Louis Simmond nel diciannovesimo secolo scrisse che i modi dei napoletani sono quelli di Tahiti o della natura in inglese the manners of the Neapolitans are like the Tahitians or rather of a primitive nature Hester Piozzi descrisse anche i Lazzaroni a Napoli come indiani tatuati in inglese the Lazzaroni the Neapolitan working class seemed to me like tattooed Indians a Roma troviamo turisti che descrivono gli uomini asiatici effemenati L'anno scorso è stato pubblicato un libro di Paola Bertucci sulla meraviglia in Sicilia durante il Grand Tour e ha mostrato come i turisti hanno affrontato la regione come una curiosità geografica Il turismo in Sicilia è davvero interessante in questo periodo perché era una colonia della Spagna quindi era davvero una curiosità gli arabi avevano iniziato a coltivare zucchero sull'isola e gli spagnoli hanno introdotto culture americane la Sicilia era ed è ancora vista come una porta verso l'Africa quindi il clima era anche capito attraverso una lente coloniale quindi se parliamo di turismo coloniale o neocoloniale stiamo parlando di un'industria che sfrutta la manodopera locale a beneficio degli europei soprattutto quando l'oggetto del fascino è qualcosa di naturale la popolazione è nascosta e la caratteristica intatta del sito è mantenuta a forza dobbiamo anche comprendere la relazione tra l'ospite indeserato e l'ospite locale dove l'industria dell'ospitalità in questi paesi dipende dal potere finanziario occidentale mi riallaccio direttamente a quest'ultima considerazione di ARDIP perché molto recentemente qualche mese fa nel mese di aprile questa associazione non governativa survival per sulla protezione dei diritti degli indigeni ha proprio pubblicato diffuso questo report decolonize UNESCO denunciando come su alcuni dei siti inseriti all'interno della World Heritage List collocati sia in Asia che in Africa Tibet India Tanzania e Repubblica Democratica del Combo in realtà l'UNESCO non solo continuasse politiche ma incentivasse politiche lesive dei diritti degli indigeni ad esempio c'è questo parco naturale Ngorongoro in Tanzania che è sempre stato un territorio abitato dai Masai e che però nel momento in cui è diventato parte del World Heritage List è stato bonificato dalle dalla presenza dei Masai che sono stati allontanati peccato che quello fosse il territorio da cui traerano sostentamento caccia di piccoli animali raccolta e quindi questi non sanno come sopravvivere ma ancora recentemente UNESCO continua a richiedere la esclusione di popolazioni estrane che sarebbero appunto i Masai stessi ahimè era stato questo questa forma di neocolonialismo belle buono insomma era stato denunciato già da anni perché era esercitato ormai da decenni dall'UNESCO anche sui grandi siti archeologici asiatici ancorvata ampi perché non solo vengono e che è la cosa più grave intendiamoci che è così anche in quei casi e cioè vengono allontanate le popolazioni locali perché appunto sia nel caso di questo ultimo che riferivo dei parchi naturali ma anche di questi siti archeologici sono ostative di un tipo di turismo che è sostanzialmente occidentale che si deve svolgere secondo i canoni occidentali cioè un monumento pulito isolato dotato di servizi e in cui popolazioni come adampi e d'ancorvat che girano attorno che magari svolgono ancora celebrazioni religiose o pascolano i loro animali non sono consoni allo sguardo del turista occidentale e proprio per questo appunto vanno allontanati c'è un documento molto interessante di Tim Winter di questo studioso australiano che racconta la storia di ancorvat e racconta come nel 92 quando il 1992 ovviamente quando il sito entrò a far parte del World Heritage List le prescrizioni dell'UNESCO erano rigidissime e cioè prescrisse alle imprese turistiche di alberghiere locali di stare lontano dal sito di occupare un'area accuratamente separata circoscritta perché c'era la totale sfiducia nelle popolazioni locali di saper gestire un sito come quello purtroppo negli anni 90 questi fenomeni sono stati ampiamente denunciati ma ahimè quest'ultimo report di survival che appartiene a pochi anni fa ci racconta di una continuità abbastanza impressionante ecco io vi ringrazio tantissimo e ovviamente insomma se ci sono domande dal pubblico sono ben accette arrivo subito grazie grazie alla British School per aver organizzato questa bellissima iniziativa complimenti a entrambi a Ardi per la professoressa Maria Pia avevo una domanda per la professoressa ma anche Ardi può naturalmente contribuire Maria Pia ok io sono Gian Battista ok si nota subito la mia impostazione accademica italiana allora la domanda è questa perché nei programmi universitari di archeologia e soprattutto il modo di fare ricerca archeologica in Italia sembra ignorare completamente il fatto che si è impostata su una base completamente coloniale e anche razzista direi un esempio è Laura di Winkelmann che non abbandona i corridoi dei dipartimenti di archeologia italiana tutto deve essere impostato su quello che è bello sul progresso e quindi continuiamo a ripetere gli stessi schemi di pre storia protostoria e addirittura io sono sardo quindi quello che è pre nuragico perché i nuragici forse si sono avvicinati un pochino di più alla archeologia ai canoni ai canoni ecco dell'archeologia greca o classica se vogliamo dire c'è oggi in Italia una sorta di presa di posizione oppure ancora il programma è quello io ho studiato in Italia mi sono iscritto nel 2013 naturalmente parlo per esperienza personale oggi non lo so quindi un pochino è una storia dolorosa io ho scritto anche il libro proprio per cercare di buttare un sasso nello stagno se riusciamo a metterlo sul manifesto della giornata mondiale dell'archeologia perché anche quello è un bel pezzetto vintage notevole e allora sì è così non è una giustificazione per l'archeologia italiana però in generale un po' tutta l'archeologia classica all'estero diciamo che si è molto dimostrata si è dimostrata molto impermeabile ai processi di decolonizzazione ultimamente ho sentito un po' più di critica ad esempio per quanto riguarda l'egittologia e le ricerche archeologiche in Egitto che finalmente si sta cominciando a dire che sono in una continuità neocoloniale un po' imbarazzante cioè vanno là le missioni archeologiche straniere bonificano i siti per carità con la piena approvazione del governo attuale in particolare anche in funzione anti-islamica appunto l'uso politico dell'archeologia e in funzione turistica però a danno delle popolazioni delle comunità che vengono traslocate che vengono e che non ricevono benefici da questo da questo tipo di ricerca e da noi ancora così io avevo mandato questo straordinario documento che poteva anche essere come data 1923 che era uguale e che invece risale all'anno scorso e cioè questi si sono inventati la prima giornata dell'archeologia italiana all'estero con tanto di mappa coloniale per far vedere quanto siamo espansi cioè quante belle indagini facciamo in tutto il mondo manifestazione che vedeva chiamati a consesso tutti i direttori italiani delle missioni archeologiche italiane all'estero e presiedute dal ministro degli esteri e dal ministro della cultura al massimo livello a celebrare i fasti dell'archeologia italiana che porta il suo sapere nel mondo questo veniva detto poi andatevi a vedere i video e mi direte se esagero attenzione queste mappe le trovate anche moltiplicate ad esempio anche sul sito del DAI per non far nomi cioè questa continuità della ricerca europea all'estero in archeologia esiste lo stesso DAI è considerato dal ministro degli esteri tedesco il maggiore ambasciatore uno dei più efficaci ambasciatori della Germania all'estero il soft power continua queste missioni sono finanziate abbondantemente dai ministeri degli esseri sono una forma di penetrazione così come è stato in epoca coloniale e quindi sono funzionali purtroppo per quanto riguarda l'archeologia classica in Italia subiamo un arretramento cioè mentre questo congelamento dal punto di vista proprio epistemologico una totale mancanza di riflessione su su questo fenomeno caratterizza soprattutto l'archeologia classica all'estero e poi con molti distingono insomma qui discorso a bel lungo per quanto riguarda l'Italia è questo meccanismo c'è poi il colonialismo interno come giustamente accennavi tu no è che ci sono certe epoche in certi posti che valgono un po' meno è un percorso da noi gli heritage studies diciamo che hanno subito un po' di rallentamenti si cominciano ad essere diffuse le pratiche di community archeologi che vanno in questa direzione community archeologi sarebbe l'archeologia per le comunità però ad esempio no io sono una malpensante e ho visto adesso sulla pubblicità di una università statale italiana in cui si pubblicizza questo corso didattico sulla public community archeologi e digital archeologi come se fossero la stessa cosa cioè la digital archeologi che è posta sullo stesso piano delle altre due e se voi andate a leggere le skills che questi insegnerebbero per per fare community archeologi beh qualche sospetto viene allora il riferimento è l'industria turistica la mediazione del conflitto eventuale cioè devono essere dei bravi diplomatici insomma quelli che fanno community archeologi perché spesso la ricerca archeologica può portare conflitto e bisogna mediare invece il conflitto a volte va gestito a volte non si risolve insomma purtroppo siamo abbiamo ancora un po' di strada da fare ma ce la faremo buonasera grazie per questo interessantissimo incontro e volevo chiedere al dottore Ardip Dinsa se può se esiste se può darci un esempio positivo di decolonizzazione nei musei britannici ci ha portato l'esempio dell'isola della statua dell'isola di Pasqua e della ciotola che era stata spostata e volevo sapere se esiste invece un modo di esporre le cose bene ancora più lodevole che sia stato fatto ovunque ad esempio io non mi sono offerta sono stata chiamata quindi un segno di ottimismo c'è quindi se vuoi rispondo a Stefania ok grazie Stefania per la sua domanda alla Tate Britain a Londra c'era una mostra chiamata William Hogarth e l'Europa una delle didascalie delle immagini era stata scritta da Lubaina Himid un'artista britannica ma non era una didascalia normale ma un'annotazione nel diario immaginata per l'africano nascosto sullo sfondo del dipinto in termini accademici la chiamiamo storia speculativa permette agli storici di dare voce a voce storicamente silenzati di riflettare l'eurocentrismo delle racconti storici e Marta grazie per per quella non era una domanda ma commento sì grazie per permettere di mostrare le mie stampe mi sentivo molto a disagio qui avevo l'architetto della BSR Edwin Lutyens aveva opinioni razzisti sugli indiani se fosse vivo non sarai benvenuto qui ma ho anche avuto la possibilità di combattere la sua eredità e usare il suo stesso edificio contro di lui era solo per davvero ringraziare Marta del suo commento che conforta un po' perché è quello che penso ma a volte uno si sente un po' in solitudine io ho interromto amicizie dopo aver scritto il mio libro ahimè non per parte mia ma da chi si è sentito toccato anche se insomma ho cercato di evitare nomi personali insomma di metterla sul personale perché è di fatto un fenomeno culturale e che è durissimo a morire quando prima parlavamo di questa Europa che ancora non accetta questi questi meccanismi però il fatto che siamo qui è davvero davvero incoraggiante e che Ardip appunto riesca a fare quello e trovi uno spazio in questo in questo posto significa che qualcosa cambia ormai in Inghilterra più che da noi perché al di là dei musei statali però ci sono io ricordo tante mostre Birmingham Manchester veramente abbastanza radicali nell'impostazione decoloniale tutte le istituzioni non statali stanno restituendo ad esempio i pezzi sottratti in epoca coloniale da partire dai bronzi del Benin quindi il movimento c'è e speriamo che sia sempre più diffuso ma dipende soprattutto da voi grazie Io vi ringrazio tantissimo e possiamo continuare appunto questa interessantissima conversazione di sopra all'aperitivo grazie